Il principe Harry potrebbe aver subito un duro colpo dopo che le gesta eroiche di suo fratello William in Afghanistan sono state rivelate. Secondo quanto riferito, il principe William, 39 anni, è intervenuto per aiutare a evacuare la famiglia di un ex ufficiale afgano, che ha incontrato a Sandurst, mentre i talebani continuano la loro devastante conquista della nazione. Si dice che il duca di Cambridge abbia esortato il suo scudiero, l'ufficiale della Marina Rob Dixon, a fare alcune chiamate al personale interessato per aiutare la famiglia a superare il cancello e l'aeroporto di Kabul e imbarcarsi su un volo per il Regno Unito. Harry ha anche frequentato Sandurst, dove tutti gli ufficiali dell'esercito britannico sono addestrati ad assumersi la responsabilità di guidare i loro soldati. Ma non si sa se sia stato in grado di aiutare gli altri membri. Il duca del Sussex, che ha svolto due tournee in Afghanistan, ha rilasciato una dichiarazione con sua moglie Meghan ai veterani militari sulla nazione il mese scorso. Incoraggiamo tutti attraverso la rete Invictus e la più ampia comunità militare a raggiungersi e offrirsi supporto reciproco. Nel frattempo, il maggiore Andrew Fox, un ex paracadutista che ha servito tre tournee in Afghanistan, ha elogiato William per i suoi sforzi. Il signor Fox, che ha aiutato gli interpreti a fuggire dall'Afghanistan, ha aggiunto di aver sentito molte storie su agenti sul campo che aiutavano persone che conoscevano da Sandurst. Ha detto al Telegraph. Io stesso ho avuto due para per correre tra la folla e prendere qualcuno per me. È pienamente in linea con ciò che ci viene insegnato nell'esercito in termini di valori, lealtà, rispetto per gli altri, tutte quelle cose buone. Siamo addestrati per aiutare dove possiamo. La situazione era così caotica ed era così, francamente, mal gestita, che le persone avrebbero fatto tutto il possibile per uscirne. All'inizio di questa settimana, l'esperta reale Angela Levin ha affermato che il duca e la duchessa di Cambridge avrebbero annunciato i loro piani per trasferirsi a Windsor la prossima settimana o nel periodo natalizio.